che bravi tutti mascherati siamo carichi siamo pronti praticamente siete tutte nuove aspettative hard core quindi tu sei rimasto silenzioso sull'hard core parliamo solo di sfrante Esatto, che si sta capendo! Scusa bene! L'eleganza, l'eleganza! Prima di far scendere le signorine! Quindi ragazzi, dopo aver imboccato il sentiero principale, siamo qua, numero 243, scendere ballattoio! La sicurezza del signor Visani! Scusa bene! Ci siete, eh? Corsi di rap dance in campina, rivolgersi alla signora Tira! Scusa bene! 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 Adesso mangiamo! Contente? Molto! Siamo al Ponte San Giovannone e siamo a Sant'Agostino ragazzi! ponte San Giovannoneétrico Ok ragazzi andiamo in direzione rifugio Villaneta Eh no, è proprietà privata Straight on baby Straight on Ma va bene anche quelle No, va bene, va bene No, va bene Buongiorno Oh ragazzi una cosa, se vi fermate, mangiate, bevete Si raccoglie sempre tutto il rusco, la sporcizia Non si inquina l'ambiente infotaminato come questo Quindi dai Continua il nostro percorso di avvicinamento a Campigna Siamo arrivati finalmente a rifugio Villanetta Numero 34 Bello e niente, proseguiamo Ormai manca poco di questa bella passeggiata Si perché il tratto finale è un po' impegnativo, giusto? Mi sono compiuto ragazzi, mi sono compiuta Allora siamo arrivati, siamo al Granduca Bar, giusto? Granduca Bar Che Bar potevamo scegliere? Brava, è lì che ti volevo Allora comandate? Io innanzitutto vorrei fare un applauso alla Bale Anche il Cree Perché era quella che diceva che la più fuori forma Invece ha dato una tirata finale che ha steso tutto Abbiamo anche la zebrona che anche lei si è difesa molto bene Cree ce l'ha fatta Lilaria è una certezza Davvero anche lei in forma Adesso si recupera Attenzione E niente dai A posto così Ciao a tutti Alla prossima Esatto